Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, code per traffico tra Barberino e Calenzano verso Firenze. In A11 rallentamenti, ancora una volta per traffico, tra Prato Oeste e BV111, ancora una volta verso il capoluogo. In FIPILI per lavori, coda di un chilometro verso Firenze e tra Montelupo e Ginestra, in carreggiato opposto rallentamenti tra La Strassigna e Montelupo. Per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo possibili disagi per pioggia sulle direttrici in ingresso città. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, per presenza di estrane in linea all'altezza di Firenze e Campo di Marte, i treni potranno maturare ritardi. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!